Plinio il giovane e il genere epistolare Allora, quella di oggi è la prima lezione su questo scrittore nato a Como tra il 61 o 62 d.C. e morto in Bitinia il 113 d.C. Utilizziamo delle slide prodotte dalla professoressa Elena Rovelli. Non solo però, anche altre slide trovate in rete. Il nome latino di Como allora appunto era Novum Comum. Si trattava di una città ancora più provinciale se possibile rispetto a quella odierna. Siccome il padre era morto, Plinio il giovane fu affidato allo zio materno che era proprio Plinio il Vecchio, l'autore della Naturalis Historia che abbiamo già studiato noi, insomma. L'autore di quel testo, insomma, di storia, di enciclopedico, di cui abbiamo già parlato. Da lui ereditò i suoi immensi possedimenti. Ecco, fortunatamente, quindi, era di una famiglia molto ricca e quindi non aveva assolutamente problemi economici, Plinio il giovane. Anzi, apparteneva proprio alle famiglie più in vista e più ricche, insomma, del tempo. Apparteneva alla classe sociale al potere e quindi era anche un po' viziato, se vogliamo, nel senso che apparteneva ad una classe molto in vista. La carriera politica. La carriera politica di Plinio il giovane si sviluppò durante l'impero di Domiziano. Rivestì numerose cariche ufficiali, al curmine del cursus honorum, divenne console nel 100. Quindi ormai nel 100 d.C. c'era già l'altro imperatore, l'imperatore Traiano. E fu sotto l'imperatore Traiano che Plinio il giovane continuò la sua carriera politica e ottenne gli incarichi più importanti. In particolar modo quello del proconsolato, chiamiamolo così, legato consolare, in realtà sarebbe questo il titolo, governatore per conto quindi dell'imperatore, della provincia del Ponto e della Bitinia. Fu appunto in questo luogo che poi morì nel 113 d.C. Quindi due anni dopo aver ottenuto questo incarico. Ma torniamo un attimino prima. Abbiamo detto che nel 100 d.C. fu nominato console, console sufectus. Ci fu in questo periodo il processo contro Mario Prisco, mentre lui era console. E poi dicevamo comunque che sviluppò un ottimo rapporto con Traiano, di cui era amico personale. Faceva parte infatti Plinio il giovane del Consilium Principis, una specie di cerchia ristretta di consiglieri appunto di Traiano. Dicevamo 110 o massimo 111 diventò legato in Bitinia e 112 o 113 appunto morì. Tornando indietro la storia retorica Roma sotto la guida di Quintiliano, intraprese con successo la carriera forense e il cursus honorum, quasi tutta sotto Domiziano. 98 prefectus erari saturni, 100 consus sufectus e come dicevamo 110 legato per conto dell'imperatore. Questo era l'impero romano ai tempi di Traiano, vastissimo. Ecco la Bitinia, era una di queste regioni di confine, per questo motivo non c'era il proconsule ma c'era il legato consolare, cioè il governatore per conto dell'imperatore, perché queste erano province imperiali. Traiano assicura la dignitas e la securitas di magistrati e senatori. Plinio vuole incoraggiare la politica filosenatoria di Traiano. Abbiamo già visto che anche Tacito si trova in una certa sintonia con Traiano. viene incoraggiato, anche lui ottiene delle incarichi politici rilevanti sotto Traiano. Tuttavia c'è da dire che poi di fatto Tacito non parla mai di Traiano. Invece, come vedremo subito adesso, Plinio Giovane fa anche un panegirico di Traiano, quindi ancora più funzionale, più strettamente legato alla politica di Traiano. Qual era la politica di Traiano? Era una politica di maggiore, come dire, rapporto con il Senato, perché a differenza di quanto aveva fatto Domiziano, che era sempre stato più rigido nei confronti del Senato, fino agli ultimi anni appunto a condannare a morte molti dei senatori, Traiano invece assicura la dignità, la sicurezza di magistrati e di senatori. E quindi un nostalgico repubblicano come Tacito sottolinea e riconosce comunque che sotto Traiano c'è un principato che è poi male minore da accettare. Mentre Plinio Giovane è perfettamente integrato nell'ambiente imperiale, non ha più alcun tipo di velleità nostalgica, insomma, della Repubblica. Ed è un grande amico di Traiano. Traiano ha il diritto di esercitare potere assoluto, ma egli vuole generosamente che i romani siano liberi e quindi non è dispotico come Domiziano, abbiamo detto in particolar modo, oppure Caligola, Nerone e altri imperatori precedenti. Iubes esse liberos. Quindi tu comandi di essere liberi. Ecco sì, è un'espressione un po' particolare, no? Nel senso che l'imperatore Traiano vuole che i romani siano liberi. Certo, c'è un po' di ambiguità in questa, no? Perché si dice Iubes, come dire, non è una cosa così spontanea, no? Perché è l'imperatore che ti dice di essere libero. Vabbè, insomma, questa è un po' una piccola contraddizione, se vogliamo. Parliamo un po' adesso della personalità di Plinio. Quali sono le qualità positive di Plinio il giovane? L'onestà morale, la cultura raffinata, il buon gusto, l'humanitas, cortesia, affabilità, l'interesse per gli altri, il compiacimento dei successi per gli amici, l'affetto per la moglie, il mecenatismo. Cioè, vuol dire che lui era talmente ricco che poi poté finanziare la costruzione, diciamo, la realizzazione, le seguenti opere. La biblioteca e la scuola di Como, cioè nella sua città, se c'erano biblioteche e scuole, lo si doveva a lui, perché poi lui aveva sovvenzionato queste attività. Aveva aiutato lo stesso Marziale. Marziale era un poveraccio. Lo ricordate Marziale? Era proprio un clients, uno che viveva, insomma, quasi, non dico di espedienti, ma quasi, no? Ecco, uno dei benefattori, tra virgolette, di Marziale fu appunto lo stesso Plinio il Giovane. Quali sono invece i limiti di Plinio il Giovane? Un po' di vanità, un po' narcisista, si autoesaltava, queste cose comunque positive, che lui, quei caratteri, quelle qualità positive di cui abbiamo parlato prima, ce le dice lui, eh, comunque, cioè le sottolinea, voglio dire, non è che se le fa dire, non è che le sappiamo da altri, no? L'aspirazione alla gloria letteraria, l'ottimismo un po' superficiale, il giudizio sulla qualità delle opere letterarie della sua epoca, non era molto oggettivo, insomma, nel giudicare le opere sia sue, sia dei suoi contemporanei. Mentre Quintiliano, quando dava i suoi giudizi, cercava di utilizzare dei criteri piuttosto oggettivi, invece Plinio era piuttosto soggettivo. Non avverte i sintomi della crisi culturale, cioè non si rende conto che comunque, già in questo secondo secolo, ci sono dei segnali di quella che sarà un po' la decadenza dell'arte, della cultura, della letteratura nei secoli seguenti. Non ha neanche i dubbi esistenziali di Tacito, cioè abbiamo detto che Tacito, come dire, accetta il principato come una necessità, però vive in sé una certa, come dire, un certo disagio, ecco, perché ha in mente comunque un modello, che è un modello diverso, che è il modello della Repubblica, no? Ebbene, questo in Plinio il Giovane non c'è assolutamente. Allora, il giudizio complessivo su Plinio il Giovane ha un gravissimo valore per farci capire l'età di Traiano e quindi l'ambiente politico, culturale, eccetera, di Roma a cavallo fra I e II secolo d.C. di grande valore e il suo stile che è semplice ma elegante. Ama le sentenze e le battute di spirito, fa citazioni letterarie, ci sono grecismi, espressioni greche nelle sue opere, però, ripeto, ha anche dei limiti. I limiti che sottolineeremo più e più volte sono, insomma, l'autocelebrazione, l'autoesaltazione e, insomma, un po' di individualismo e di egocentrismo. Però, ripeto, ci sono degli aspetti per cui valorizzare anche le opere di Plinio il Giovane. Oggi incominciamo a parlare del Panegirico. La prima opera di cui parleremo è il Panegirico di Traiano. Ritorniamo alla pagina 392. È un po' adulatorio, senz'altro. Intento non solo a... Quindi, volevo dire, è un testo che celebra, esalta l'imperatore Traiano in modo un po' adulatorio. però l'imperatore comunque dimostra di essere un buon principe, insomma. È un modello, tra virgolette, di buon governo, quello che emerge dalla esaltazione dell'imperatore. Allora, siamo nel primo settembre del 100 d.C. e il Panegirico costituisce una graziarum graziarum actio, cioè praticamente un discorso di ringraziamento. Un vero e proprio Panegirico, un'esaltazione, una durazione, eccetera, di queste... Da quel momento in poi il termine Panegirico diventa un nome comune, come dire, indica proprio un testo, un'orazione adulatoria di esaltazione di una persona. In una lettera dice di aver sviluppato l'orazione effettivamente pronunciata per una recitazio, quindi doveva essere un'orazione che doveva avere una funzione pubblica, doveva essere appunto recitata pubblicamente. vuole delineare attraverso questo Panegirico la figura dell'optimus princeps, quindi un modello, dicevamo, del buon governo. Traiano è un dono fatto dagli dèi ai romani, è un uomo, un sovrano perfetto. Il Panegirico ha 95 paragrafi in cui appunto si esalta questo imperatore. C'è anche l'antitesi, è evidente l'antitesi con gli imperatori precedenti e quindi con Domiziano in modo particolare che aveva caratterizzato gli anni immediatamente precedenti. Ecco, in questo Panegirico viene erogiato il metodo di successione. Dovete sapere infatti che nel 96 muore Domiziano per una congiura e viene eletto imperatore Nerva. Tutti però capiscono subito che Nerva che è un anziano senatore anche abbastanza malato non sarà imperatore per molto tempo e tutti sono preoccupati anche perché insomma le elezioni degli imperatori negli ultimi tempi insomma la scelta degli imperatori era sempre caduta sui in modo ereditario diciamo così sui figli oppure parenti degli imperatori precedenti e questo non aveva sempre portato ad una scelta del migliore anzi si era visto che Domiziano pur essendo figlio di Vespasiano che era stato un ottimo imperatore e fratello di Tito che era stato un imperatore se possibile ancora più bravo del padre in realtà era stato appunto tirannico dispotico e anche un po' inetto e allora Nerva adotta un altro criterio cioè adotta un altro criterio cioè adotta usate il gioco di parole la ripetizione adotta Traiano che era un generale che si trovava allora nel confine Limes in Germania a presidiare quei territori in Germania lo adotta come suo figlio la questione dell'adozione di figli è una intendo dire questa pratica è una pratica diffusa a Roma lo sappiamo da tantissimo tempo vi verrà in mente infatti Gaio Ottavio che è stato adottato da Cesare e quindi poi diventò Gaio Giulio Cesare Ottaviano Augusto quindi non è un criterio così nuovo così innovativo però applicarlo proprio per l'elezione dell'imperatore fu innovativo se vogliamo e comunque fu questo il criterio che poi adottarono non solo Nerva per Traiano ma anche Traiano per Adriano Adriano per Antonino Pio e Antonino Pio per Marco Aurelio poi questo criterio non fu adottato da Marco Aurelio e questo infatti generò un caos alla morte di Marco Aurelio alla fine diventò imperatore suo figlio Commodo che comunque si dimostrò il caos poi si ebbe soprattutto alla morte di Commodo ma Marco Aurelio che disse che doveva essere suo successore il figlio Commodo dimostrò che invece il criterio ereditario era un criterio fallimentare perché il figlio Commodo fu un imperatore che lui inetto dispotico se avete visto il gladiatore magari lo conoscete conoscete le vicende di Commodo ecco le qualità di Traiano è un comandante è un comandante militare un grande comandante militare e questo è importante diciamo la verità quindi Nerva che invece non lo era tutti quanti si rendevano conto che non poteva essere un grande imperatore la generosità l'affabilità poi ancora lui è contro i delatori ecco a cosa vuol dire essere contro i delatori adesso ve lo spiego dovete sapere che Domiziano l'imperatore l'ultimo imperatore della dinastia Flavia era molto timoroso era molto sospettoso ne aveva anche Ben Donde perché lo volevano far fuori e allora cosa succedeva bastava che uno andasse a fare la spia dall'imperatore dicendo guarda che c'è quello lì che sta organizzando una congiura contro di te e quella persona veniva condannata a morte ecco Traiano non adotta questo sistema non accetta alcun tipo di denuncia di spia di delazione eccetera e questo crea un clima più sereno abolisce il crimine di lesa maestà che invece aveva permesso agli imperatori in modo arbitrario nei decenni precedenti di mettere a morte una persona che semplicemente avesse come dire attentato alla maestà degli imperatori ecco dicevamo che Plinio trasforma la graziaru mazio cioè il ringraziamento per la nomina console pronunciato di fronte al senato ricordate che nel centro dopo Cristo Plinio un giovane era diventato consul su Fectus in un'esaltazione dell'imperatore di cui esalta le virtù dopo il tiranno Domiziano che però non aveva mai in realtà danneggiato Plinio anzi Plinio abbiamo detto che aveva fatto carriera sotto Domiziano l'optimus princeps Traiano ha reintrodotto la libertà di parole e di pensiero Plinio delinea un ideale modello di comportamento la concordia fra princeps e nobilitas quindi il principe che ritorna concorda in sintonia con la nobilitas quindi praticamente con i senatori o comunque le famiglie al potere a sua volta integrata col ceto equestre e quindi tutto in una maniera armonica così ci viene presentata la struttura gerarchica del potere a Roma da Plinio giovane ha anche una funzione pedagogica nei confronti dell'imperatore caro imperatore continua su questa strada cerca di seguire questo modello quest'ideale l'ideale dicevamo dell'optimus princeps come aveva fatto un pochettino Seneca nel De Clemenzia con Nerone con l'unica differenza che Nerone poi ha fatto tutt'altro e non ha seguito i consigli di Seneca e invece Traiano segue come i consigli di di Plinio giovane affiora il timore che il senato possa soffrire in futuro ciò che ha patito con Domiziano e quindi cercare di evitare e quindi di eliminare qualsiasi tipo di elemento che possa favorire nuovamente una tensione tra princeps e senato bene è il momento adesso di parlare con voi dell'epistolario gli epistularum libri che sono ovviamente diciamo il capolavoro di Plinio il giovane i primi nove libri sono pubblicati da Plinio e contengono lettere scritte tra il 97 e il 108 praticamente i primi nove libri li ha pubblicati lui stesso quindi poi rileggendo rileggendo li mando e sistemando le le sue lettere che sono lettere autentiche ma poi sono come vedremo rielaborate a tavolino e quindi corrette in maniera tale da potersi presentare nel modo migliore possibile per la pubblicazione e quindi per la lettura questi i primi nove libri il decimo libro invece sarà pubblicato postumo perché riguarda le lettere che lui aveva scritto quando era governatore in Bitinia e quindi poi dopo lui morì in Bitinia e furono pubblicate dopo la sua morte quindi i primi nove sono lettere agli amici a tantissimi corrispondenti insomma che aveva e soprattutto sono quelli che appartenevano alla sua classe sociale quindi generalmente senatori uomini politici eccetera eccetera il decimo dicevamo contiene il carteggio fra Plinio e Traiano sono 124 lettere di cui 51 in realtà sono di Traiano quindi in questo decimo libro non ci sono solamente lettere di Plinio il giovane siccome è un carteggio allora abbiamo anche le lettere magari di risposta di Traiano come vedremo in latino risposta si diceva rescritto cioè io scrivo a qualcuno se qualcuno risponde lui fa un rescritto può dire praticamente risposta è molto importante questo perché nel rescritto di Traiano o di una lettera di Plinio il giovane abbiamo addirittura il criterio che dovevano utilizzare gli imperatori nei confronti dei cristiani delle accuse delle condanne a morte dei cristiani quindi un testo importantissimo ecco abbiamo la dedica questo libro è dedicato il libro dei libri delle epistole i primi nove libri quantomeno che lui aveva pubblicati sono dedicati all'amico Setticio chiaro comprendono 247 lettere mentre abbiamo detto il decimo ne contiene 124 comunque il decimo è importante tant'è vero che poi noi leggeremo forse quasi solo lettere dal decimo sono lettere scritte per essere pubblicate anche se molte effettivamente inviate ai destinatari è quello che dice il vostro libro quando dice che sono autentiche quindi che magari lui le ha inviate davvero a questi amici destinatari eccetera ma poi sono state rielaborate quindi mescola un po' gli argomenti in modo da rendere vario e piacevole il suo libro gli abbiamo detto che le corregge che le le sistema eccetera come meglio desidera lui tranne il decimo ovviamente dal momento che il decimo non l'ha pubblicato lui sarà qualcun altro insomma a sistemarle in un modo in un modo diverso ecco infatti l'ordine delle dei primi nove libri è un ordine dicevamo voluto dall'autore stesso secondo il criterio della varietà si tratta di un'apparente casualità ma che doveva servire semplicemente a rendere sempre piacevole la lettura perché non noiosa perché non si tornava sullo stesso argomento una lettera dopo l'altra insomma ma si variavano gli argomenti insomma l'ha voluta lui questo sistema questa organizzazione ecco un epistolario concepito dicevamo per la pubblicazione Plinio afferma di aver pubblicato le lettere in ordine casuale l'epistolario segue invece un attento criterio di alternanza di temi per evitare la monotonia è notevole l'eleganza formale ogni epistola si costruisce su un singolo tema con cura e chiarezza nell'epistolario ciceroniano dominano invece esigenze comunicative insomma qui abbiamo la prima grande differenza tra le lettere insomma di Cicerone e quelle di Plinio ma su questo ritorneremo e insomma sostanzialmente Cicerone scrive davvero a delle persone per ottenere degli scopi per sapere delle notizie o per informare e non pensava minimamente che fossero pubblicate invece Plinio scrive anche per pubblicare questa è una differenza enorme fra i due epistolari quello di Cicerone e quello di Plinio ecco le lettere i temi delle lettere bene gli argomenti delle lettere testimoniano sono il documento della vita di un uomo di successo diciamo un uomo ricco un uomo di successo un uomo che assurge le più alte cariche insomma dell'impero tranne quella dell'imperatore ovviamente e quindi queste lettere comprendono discorsi in tribunale o in senato recitazioni inviti a cena ecco per esempio in particolar modo le sue ville lui aveva tante ville residenze in campagna residenze fuori dalla dalla città no? in cui invitava gli amici no? si trattava dei salotti bene della Roma bene dell'elita aristocratica e culturale oppure le condoglianze gli scambi di favori i resoconti di sedute del senato i racconti di avvenimenti i luoghi comuni filosofici come vedete ecco la varietas quindi sono vari gli argomenti delle lettere delle lettere di Plinio molto importanti le due a tacito in cui parla dello zio quindi di Plinio il vecchio e poi parla dell'eruzione del Vesuvio ecco queste di queste parleremo leggeremo insomma dei brani anche le prossime volte questa è la prima lezione su Plinio il giovane sull'epistolario in generale ma poi leggeremo dei brani brevi saggi di cronaca sulla vita mondana intellettuale civile contemporanea eventi e pettegolezzi degli ambienti elevati amore per la vita di campagna vissuta però nell'ottica del proprietario terriero ecco infatti lui contrappone in modo particolare la sua como novum comum la città natale insomma a Roma che è molto caotica ed esalta la vita di provincia la vita di campagna anche se un po' più sonnacchiosa rispetto alla stimolante vita urbana elogia personaggi contemporanei come Silvio Italico Marziale Svetonio Tacito Plinio anzi si compiace di essere stato scambiato per Tacito nel circo lo ritiene quindi una specie di complimento quello di essere preso per Tacito poi loda la propria attività poetica ai 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 questo è un po' un aspetto un po' un limite che abbiamo già sottolineato l'auto incensamento secondo Plinio non sufficientemente stimata dei poeti e conferenzieri contemporanei scusate scusate non solo la sua ma proprio dicevamo dei poeti e dei conferenzieri del suo tempo e qui è il punto in cui abbiamo detto lui non è oggettivo perché in realtà dei poeti e conferenzieri del suo tempo oggi possiamo anche tranquillamente fare a meno poi ancora delle pubbliche recitazioni e declamazioni che gli stessi organizzano invece abbiamo visto molto più oggettivi in questo in questo senso sia tacito sia quintiliano che riconoscevano che ormai l'eloquenza era in crisi e quindi criticavano le piuttosto artificiose recitazioni e declamazioni del tempo anche se trovavano la causa di questa decadenza in due come dire l'uno quintiliano nella decadenza dell'oratoria nell'allontanamento dal modello ciceroniano l'altro invece tacito nella decadenza politica cioè intendo dire nella situazione politica che non rendeva più così impellente e urgente diciamo l'apporto dell'oratoria e della retorica in campo politico il tema della decadenza della cultura la posizione di Plinio Plinio non condivide le preoccupazioni di Quintiliano è tacito secondo Plinio è decaduto solo il gusto degli ascoltatori ecco allora se vogliamo la terza ipotesi i primi due dicono no l'eloquenza decade e hanno spiegato e hanno adotto le loro cause invece Plinio dice non è decaduta l'eloquenza ma sono decaduti gli ascoltatori cioè i lettori gli uditori eccetera è una tesi comunque che noi non ci sentiamo abbiamo detto di abbracciare egli predilige una letteratura di intrattenimento frivola e di occasione rappresenta l'impoverimento della tradizione culturale propria della classe dirigente romana insomma abbiamo già detto in questo in questo caso non si dimostra molto lungimirante quando esalta la letteratura del suo tempo che è una letteratura di intrattenimento frivola d'occasione eccetera sicuramente è poco oggettivo bene no scusate questa è una cosa di cui dobbiamo parlare la volta prossima quindi riflettendo ancora sui luoghi ecco diciamo il locus a minus qui abbiamo per esempio un riferimento purtroppo non nelle slide ma sul nostro libro a una delle più famose lettere di Plinio quella in cui descrive le fonti del clitumno ecco questa lettera fu fonte di ispirazione per tanti autori del rinascimento e anche per Carducci insomma lui descrive le fonti di un piccolo fiume appunto in latino si chiamava clitumno oggi invece si chiama Maroggia sgorga vicino a Spoleto e diventa questo una descrizione quasi un modello di locus a minus appunto intendo dire di un luogo incontaminato insomma in cui è presente una bellezza naturale spontanea e pura limpida e senza la presenza invadente dell'uomo poi le occasioni mondane ne abbiamo già ne abbiamo già parlato più e più volte ecco già visto volevo dire con le slide precedenti quali sono le tematiche delle occasioni mondane e poi il ritratto dell'autore alla fine insomma abbiamo una specie di autoritratto di un aristocratico colto e illuminato perché come l'abbiamo detto più e più volte comunque fine o giovane nelle sue lettere ama anche esaltare se stesso il suo modo di vivere raffinato se lo può permettere del resto perché era uno anche abbastanza ricco